va bene ragazzi avete vinto mi arrendo per quanto riguarda il precedente video sulla memoria trasversale di chat gpt avete vinto voi siete venuti sotto quel video me ne avete dette quasi tutti di tutti i colori per cui no scherzo sono molto orgoglioso di voi anzi grazie per aver partecipato sono orgoglioso della mia community che è splendida e però mi avete messo in minoranza evidentemente per quanto riguarda sto parlando del video sulla memoria trasversale ve lo lascio qui sopra da qualche parte per chi se lo fosse perso abbiamo parlato di questo argomento avevo chiesto che cosa ne pensate voi ho espresso la mia opinione l'opinione della mia comunione è stata decisamente diversa dalla mia per cui va bene insomma ne prendo atto si può essere sempre d'accordo d'altronde l'avevo detto è comunque una roba facoltativa se la vuoi la tieni se non la vuoi non la tieni io non la tengo non la terrò quando ce la faranno vedere però fatemi togliere solo un sassolino dalle scarpe che è il seguente va tutto bene però io ravvedo anche una certa predisposizione al dossieraggio da parte vostra perché adesso sì ok ci siamo già abituati con i social e tutto quello che volete però una un'altra macchina che ci che raccoglierà tutte le informazioni su di noi anche quelle più private anche il nome dei nostri figli che lavoro facciamo perfino come ci piace il caffè ok e che le utilizzerà per scopi di profilazione che parliamoci chiaro tutto questo pagando che mentre facebook e altri social almeno sono gratuiti e quindi ti dicono la profilazione è caro mio è poi il prodotto gratis e io di profilo chat gpt lo pagate vabbè comunque fine fine della parentesi chiudiamo questo discorso la vera novità del secolo la nuova l'ulteriore incredibile novità è quella che vedete qui qui accanto a me che è questa roba incredibile che è successa nelle ultime 24 ore 36 ore così questa volta non sono stato il primo a darvi questa notizia perché me la sono voluta studiare innanzitutto ieri notte alle 5 io stavo comunque registrando questo video ma poi mi è crashato il computer e alle 5 ho alzato bandiera bianca ho detto basta basta lo facciamo domani eccolo qui e quindi ok non so il primo a darvi la notizia l'avete probabilmente già visto però io mi sono anche preso un po di tempo per studiarmela questa cosa perché è straordinaria ragazzi soltanto pochi giorni fa la generazione di un video di un text to video era qualcosa di psichedelico no queste trasformazioni continue facce che cambiavano ambienti no environment che modificavano continuamente cioè questo era quello che vedevamo fino a pochi giorni fa improvvisamente sul sito di open ai compare questa cosa che ha dello straordinario adesso io metto le mani avanti dicendo all videos on this page were generated directly by sora without modification per cui non vorrei di nuovo cadere nel no in qualche inganno di marketing come quello che è accaduto con gemini di google qua c'è scritto grosso così all'inizio della pagina che tutti i video su questa pagina sono stati generati direttamente da sora senza modifiche c'è scritto così io che vedevo di quindi suppongo che sia così anche perché sono andato a studiarmi il funzionamento e in questo video facciamo lo spiegone di come funziona questa roba prima di cominciare però io devo fare lo youtuber voi dovete fare i follower per cui due paroline veloci su che cos'è brightener brightener è la meravigliosa piattaforma di intelligenza artificiale con la quale io collaboro e per la quale ho curato tutto il prompt engineering essendo occupandomi io proprio di questo principalmente di prompt engineering prompt designing quindi questa piattaforma nasce intorno a un nostro progetto e è molto interessante qui si fa potete venire a fare tutto intanto c'è sotto gpt turbo gpt 4 turbo 128 k naturalmente e poi ti permette per esempio di costruire un blog da zero di scrivere un romanzo ti aiuta a scrivere un romanzo oppure di scrivere un non fiction libro non fiction che è particolarmente adatto a chi fa self publishing oppure di costruire un canale youtube ma ci fai tantissime altre cose ci fai anche le immagini c'è stable diffusion dentro e c'è tanta tanta roba ci sono oltre 160 template per cui non si limita a quello che vi sto dicendo voglio soltanto andare veloce tanto confido sul fatto che se siete curiosi venite su brightener.com e lo guardate e poi quattro parole velocissime sul mio corso di programmazione semantica su menti emergenti.com che era stato già aggiornato al 2024 e io in questo momento sto registrando il corso di semantica il corso di programmazione semantica 2.0 completamente riprogettato riregistrato dalla prima all'ultima lezione però sarà pronto ancora da qualche settimana forse un mese che ragazzi comporta veramente tanto studio e tanto lavoro per cui voglio soltanto dire che chi acquista il corso questo qui il corso del 2023 aggiornato comunque al 2024 con due ore di lezione in più intanto a prezzo pieno quindi a 299 euro accederà direttamente senza passare dal via al corso di programmazione semantica 2.0 naturalmente chi volesse comprare il corso di programmazione semantica 2.0 quando uscirà costerà almeno il doppio non è marketing signori non è marketing si stanno interessando al mio corso di programmazione semantica alcune categorie professionali stiamo parlando di ordini professionali non posso dire di più non è il caso però è un corso davvero professionalizzante un corso molto serio non è non sto facendo non sono non sto qui a fare marketing non ho altro da aggiungere vostro onore a questo punto andrei tranquillamente al nostro video allora sora ragazzi sora sora openai.com slash sora ci fanno questa sorpresa ora ho già visto dicevo non sono il primo a fare questo video l'hanno l'hanno già fatto altri per cui un minutino datemelo per vedere di che cosa stiamo parlando stiamo parlando di questa roba qua qui c'è un prompt prompt due punti questo semplice prompt che sto evidenziando qui sotto origina automaticamente questa roba è una roba completamente fuori di testa guardate che roba lo rimetto dall'inizio guardate questa ragazza che cammina qui c'è l'unico glitch a compare seguite bene le gambe compare qui tra un attimo si scambiano le gambe guarda eccolo qui eccolo che arriva eccolo che 14 15 16 qui vedi si scambia la gamba finestra con la testa è l'unico glitch per il resto guardate guardate il riflesso guardate le persone che camminano guardate la consistenza dei segnali stradali perfino dei mattoni sul pavimento delle colonne di qualunque cosa dei vestiti guardate proprio il movimento dei vestiti con le gambe laschie guardate il riflesso sugli occhiali è incredibile l'orecchino che oscilla perché lei cammina il movimento dei capelli è una cosa straordinaria io penso che si siano già sprecate già abbastanza parole in queste 48 ore che c'è stata questa novità molti youtuber ne hanno già parlato hanno fatto notare tutto perché è comunque una roba incredibile qui ci sono un sacco di video uno più bello dell'altro è semplicemente una cosa impressionante semplicemente una cosa impressionante ce ne sono tanti tutti bellissimi per cui invece di soffermarci su tutto quello che dice questa pagina che tanto ve l'hanno già fatto vedere altri volevo perché io me lo sono studiato quindi volevo condividere con voi il funzionamento di questo affare anche perché io credo che sia interessante perché parlando di come funziona sora vengono coinvolti tutta una serie di concetti che comunque sono concetti che noi oramai da un anno a questa parte incontriamo ogni giorno ok incontriamo ogni giorno da modello di diffusione a transformer a tutta una serie di concetti che tanto è il caso di cominciare a conoscere per cui conosciamoli insieme allora io per siccome ho dovuto studiare ve lo dico tutto approfondire un po' per cui ho preparato delle slide che sono queste quindi io intanto mi scanso in basso a destra e cominciamo a vedere che cos'è questo sora di open ai per quanto se ne sa in questo momento siamo a metà febbraio del 2024 è stato appena rilasciato e comunque tutto quello che io vi dico è frutto viene da quello che loro hanno pubblicato però non è che hanno pubblicato proprio ancora tutto per cui tutto quello che io vi dico è frutto anche di una ricostruzione un po' per quello che si può capire da quello che hanno detto dovrebbe funzionare in questo modo diamolo per buono fino a che non smentiscono fino a che non dicono qualcosa di diverso però in questo momento quello che si sa è quanto segue sora è un modello di diffusione basato su transformer modello di diffusione è una cosa come stable diffusion per la generazione di video però stable diffusion è per la generazione di immagini un modello di diffusione per la generazione di immagini mentre sora lo è per la generazione di video e presenta un'architettura basata sui transformer proprio come gpt vi ricordo che gpt sta per general pre trained transformer per cui diciamo che open ai ha deciso di proseguire sulla squadra vincente cioè quella dei transformer cosa che comunque stanno facendo tutti per carità i transformer hanno decisamente cambiato l'industria ma adesso ne parliamo allora partiamo da che cos'è un modello di diffusione abbiamo detto che è un modello di diffusione di diffusione che però produce video allora partiamo da che cos'è un modello di diffusione come stable diffusion che è un text to image vediamo come funziona di base il funzionamento è che quando il l'utente approccia a stable diffusion o a modelli simili basati sulla diffusione e scrive un prompt che è un prompt testuale e entra quindi subito in gioco un text encoder il text encoder trasforma il prompt dell'utente in una rappresentazione numerica comprensibile al modello qualcosa naturalmente che possa essere compreso dal modello questa rappresentazione cattura i concetti e le intenzioni espresse nel prompt a questo punto che cosa fa il modello inizia con la creazione di un pattern di rumore casuale per pattern di rumore casuale si intende una roba tipo avete presente quando la televisione non prende bene il segnale una cosa che funziona in questo modo non so se si vede bene ma non posso fare più di così che praticamente come quando la televisione non prende il segnale quando c'è un caos totale di punti ok quello è un pattern di rumore va bene quindi funziona un po vi ricordate anche michelangelo cosa diceva michelangelo diceva io non creo la scultura ma tolgo il superfluo dal marmo per cui a lui gli arrivavano un blocco di marmo il suo lavoro era togliere tutto quello che c'era in più sulla scultura come se la scultura fosse già compresa nel marmo il suo scopo era togliere tutto quello che ci aveva intorno no e lasciare la scultura il modello di diffusione funziona in un modo del genere in un modo simile sì perché parte dal rumore parte da tanto rumore confusione assenza di informazioni e va togliendo questo rumore dal fotogramma fino a raggiungere l'immagine che poi ci dà in output ok quindi torniamo da noi quindi parte con un pattern di rumore casuale che è privo di informazioni poi c'è attraverso il processo di denoising noise in inglese significa rumore denoising è il togliere il rumore quindi attraverso il processo di denoising che avviene attraverso passaggi iterativi durante i quali il modello prevede come deve ridurre il rumore per avvicinarsi all'immagine desiderata quindi attraverso il denoising lui inizia a prevedere sono modelli previsionali no come dovrà ridurre il rumore per avvicinarsi all'immagine desiderata tenendo conto del risultato dell'encoder cioè di quello che aveva espresso del desiderio che aveva espresso l'utente nel prompt il modello naturalmente come funziona l'addestramento di questo modello viene addestrato su dataset di coppie immagini e descrizione quindi il modello apprende l'immagine e la descrizione e impara le correlazioni tra le immagini e le descrizioni e quindi impara a collegare specifiche rappresentazioni testuali con particolari caratteristiche visive durante il denoising il modello utilizza queste conoscenze per rimuovere il rumore di fondo in modo selettivo trasformando gradualmente il pattern di rumore iniziale in un'immagine che corrisponde alla descrizione testuale e quindi ora sappiamo che cos'è un modello di diffusione ma ci sono ancora tante definizioni da dare per capire che cos'è Sora quindi è un modello che si basa un po' su questo principio va bene ora cerchiamo di capire come si addestra Sora quindi quali sono gli step Sora allora voi dovete pensare che si dovevano affrontare dei problemi assai più complessi di quelle della generazione di un'immagine perché mentre l'immagine è un frame e basta quando io attraverso un testo richiedo la generazione di un video purtroppo sto diciamo dichiarando in maniera implicita tutta una serie di relazioni spazio temporali prospettiche che per un essere umano sono ovvie ma per una macchina no per niente ok se io ho per esempio io richiedo il video di un uomo che morde un panino e allora viene generato il panino il panino viene avvicinato alla bocca l'uomo morde il panino ma successivamente quando l'uomo allontana il panino dalla bocca il panino deve deve avere il morso quindi ci deve essere una interazione tra gli elementi dell'immagine se io richiedo una una jeep che che sta andando sul fango la jeep deve lasciare delle delle dei solchi va bene sul fango no perché c'è un'interazione tra due cose o anche molte di più no se io chiedo la generazione non so di un tavolo da biliardo e quindi un uomo che spacca no e dà inizio alla partita e quindi tutte le palle si muovono sul biliardo è lì c'è bisogno che la macchina sappia come interagiscono le cose in maniera spazio temporale che ci sia un una conoscenza della fisica del sì della fisica quindi dei movimenti conoscenze delle relazioni spazio temporali complesse tra gli elementi signori miei per cui il modello come stable diffusion text to image è un discorso ma il text to video è assai più complicato per cui bisognava insegnare alla macchina queste relazioni spazio temporali tra gli elementi che compongono le scene quindi era necessario utilizzare una tecnica che si utilizza già nella nell'intelligenza artificiale che è quella dello spazio latente ne parliamo tra un attimo ne parliamo tra un attimo intanto vi ho introdotto la ragione per cui serve questo strumento ora torniamo un attimo all'addestramento di sora quando si è dato inizio a questa macchina la prima cosa che si è fatta è stato creare un descriptive captioner che sarebbe nient'altro che una macchina che un modello che è in grado di descrivere un'immagine o un video ok sai quando tu adesso dai a chat gpt gli mandi una foto gli dici descrivila questa cosa si fa anche con mi giorni no vai su mi giorni gli dai un'immagine di dammi la descrizione di questa immagine lui ti dà una descrizione testuale ok per cui image to text va bene quindi prima tutto si è fatto questo cioè si è fatto in modo di ottenere immagino centinaia di milioni di descrizioni dettagliate dei video ok loro avevano probabilmente milioni decine di milioni chi lo sa non lo so tantissimi video da sottoporre come addestramento alla macchina gli serviva che fossero tutti descritti per cui passo 1 creare un descriptive captioner per estrarre le descrizioni testuali dettagliate dei video quando ancora sono nello spazio dimensionale originale perché dopo vengono vengono compressi nello spazio latente quindi dopo di che infatti prendi tutti questi video di cui hai la descrizione la metti da una parte la descrizione prendi questi video e li comprimi nello spazio latente suddividendoli in patch spazio temporali le quali patch rappresentano le caratteristiche astratti tra gli elementi che compongono i video voi dovete capire che le patch sono che vengono estratte dai video attraverso lo spazio latente di cui adesso parliamo un attimo queste patch vengono utilizzate come i token io non posso pure partire con la spiegazione di che sono i token e se voi avete un'idea di che cos'è gpt come funziona gpt funziona con i token la tokenizzazione è la riduzione delle parole le parole vengono ridotte in pezzi di parole blocchi come le sillabe non sono le sillabe non equivalgono alle sillabe ma ci si capisce in questo modo come le i token sono le sillabe che utilizza gpt per costruire per analizzare l'input e processare l'output ok gli serviva il concetto di token gli serviva una unità un atomo una unità video da poter trattare sulla quale costruire sulla quale processare poi gli output ok per cui questi token i token di un modello come Sora vengono prodotti in questo modo si porta il video nello spazio latente e si estraggono le patch le patch spazio temporali le patch rappresentano le caratteristiche astratte tra gli elementi che compongono i video per esempio una palla che colpisce una sponda di un biliardo prende una traiettoria dei 45 gradi concetti ester concetti astratti che vengono estratti da i video quando sono nello spazio latente quindi le patch poi vengono utilizzate dai transformer come i token vengono utilizzati dentro gpt sempre dai transformer quindi è complessa la cosa andiamo avanti diciamo il passo successivo ora che cos'è lo spazio latente lo spazio latente immaginamolo come l'operazione di compressione di un file noi normalmente sui nostri computer comprimiamo i file diciamo zippare no ti mando un file zippato vuol dire un file compresso qual è lo scopo della compressione attraverso un zippo come si chiama è lo scopo è quello di ottenere una riduzione dello spazio di memorizzazione del file senza la perdita dei dati e soprattutto l'obiettivo è quello che quando dopo me serve quel file io posso ricostruire il file originale senza senza aver perso dei dati durante la fase di compressione no per cui questo è lo scopo di zip ecco lo spazio latente fa un'altra cosa però quello che possiamo immaginarci un po questa compressione comunque del file che non viene compresso con lo scopo di ridurre lo spazio di memorizzazione del file ma viene compresso per ridurne le dimensioni nel senso di spazio dimensionale lo spazio latente in intelligenza artificiale è una rappresentazione compatta dei dati una rappresentazione compatta dei dati ad alte dimensioni come video immagini che presentano tantissime dimensioni in uno spazio dimensionale inferiore questa rappresentazione cerca di catturare le caratteristiche essenziali dei dati originali tuttavia a differenza del formato zip che dicevamo che comprime i dati per ridurre lo spazio di archiviazione mantenendo i dati originali inalterati e completamente recuperabili la compressione in uno spazio latente è spesso una trasformazione definitiva che non garantisce una ricostruzione perfetta dei dati originali a loro non gli serve che una volta dato ridotto il video nello spazio latente a loro non gli serve che successivamente questo video sia ricomposto nello spazio in tutte le sue dimensioni non gli serve proprio perché non vogliono che la macchina dia in output dei video esistenti i video con i quali è stata addestrata i video con i quali viene addestrata vanno persi perché vengono ridotti nello spazio latente vengono estratte le patch e non è più necessario ricostruirli per cui non gli interessa ok per cui c'è un altro scopo questa compressione ha un altro scopo rispetto alla compressione che utilizziamo noi sui computer nel contesto di Sora quando i video vengono compressi nello spazio latente l'obiettivo è catturare le informazioni visive essenziali in una forma più gestibile che il modello utilizza per apprendere le relazioni astratte e generare quindi successivamente i nuovi video i nuovi video ok ci siamo quindi questa roba serve per estrarre dai dai video che gli diamo in in input durante la fase di addestramento per estrarre quelle unità minime essenziali che per quanto riguarda gpt chiamiamo token che vengono utilizzate successivamente dai transformer per la ricostruzione dell'output queste unità minime essenziali le patch spazio temporali si portano dietro delle relazioni spazio a figurarmela e quindi a trasmettervela ora che sono sti transformer perché a questo punto entrano in gioco i transformer pur i transformer naturalmente devono fare qualcosa la vediamo che sono i transformer questo è un concetto invece diciamo trasversale perché servono pure stanno pure dentro gpt stanno dappertutto i transformer nell'intelligenza generativa nell'intelligenza generativa odierna moderna stanno dappertutto per cui tanto vale saperlo sono stati introdotti da signor Vaswani nel 2017 in un famosissimo paper passato alla storia con il nome di attention is all you need peraltro questo signore si chiama Ashish Vaswani lavorava a google e lui e tutti i sette se non sbaglio sette otto colleghi che hanno partecipato a questo paper oggi non lavorano più a google e sono probabilmente tra le personalità più influenti in questo campo perché hanno introdotto non l'hanno proprio introdotti in realtà li hanno diciamo rivalutati ripescati da un lavoro che era comunque addirittura precedente ed era del 2014 però diciamo nella storia intelligenza artificiale si parla del momento in cui sono stati ripescati ripresi e riportati all'attenzione di tutti è il 2017 quando questi signori hanno fatto questo articolo geniale il transformer permette al modello di ponderare l'importanza di diverse parti della sequenza di input quando produce un elemento della sequenza di output quindi mentre lui sta decidendo come deve risponderti quindi sta creando l'output sposta l'attenzione sull'input e va a ponderare l'importanza delle diverse parti dell'input perché l'input soprattutto quando è testuale non tutto l'input ha la stessa importanza ci sono i punti più importanti dell'input che lui deve prendere deve apprendere capire ok quali sono i punti più importanti quindi quelli su cui deve focalizzarsi maggiormente rispetto agli altri che poi il testo è anche pieno di rumore a volte no quando noi scriviamo del testo c'è un sacco di parole che non sono così rilevanti rispetto ad altre parole che invece sono parole chiave per capire quello che stiamo dicendo ok per cui i transformer hanno questo questa magia fanno questa magia riescono a eliminare tutto il rumore delle delle parole irrilevanti dal testo di input e capire quali sono le parole quindi concetti più rilevanti nell'input e su quelli poi si va a costruire la risposta di gp di chat gpt ci siamo quindi questa è la magia che fanno fanno questa cosa qua guidano la rete neurale in questo processo e quindi simulano il meccanismo dell'attenzione si dice così si dice che è come se i transformer diciamo guidassero l'architettura della rete neurale simulando il meccanismo dell'attenzione permettendo quindi alla rete neurale di focalizzarsi in maniera selettiva su parti diverse dell'input durante la generazione dell'output ci siamo questi sono i transformer quindi adesso dobbiamo riprendere dove eravamo rimasti questa l'ho duplicata questa slide va bene quindi era quella che avevamo visto prima eravamo rimasti qua prima si fa il descriptive captioner dopo si comprimono i video nello spazio latente e si estraggono le patch mo che facciamo le patch vengono utilizzate dai transformer abbiamo detto quindi abbiamo visto che cos'è lo spazio latente abbiamo visto che cosa sono i transformer sappiamo pure che cos'è un modello di diffusione adesso finalmente possiamo andare avanti per cercare di capire meglio che cosa fa questo sora allora dopo aver preso le patch vanno a ripescare tutte le descrizioni che che non erano poco importanti perché i transformer che cosa fanno a questo punto crea siamo nella fase di addestramento l'utente ancora non ci ha messo le mani e stiamo creando ancora nella fase di addestramento il modello che dopo l'utente utilizzerà ok stiamo ancora creando l'intelligenza artificiale ok per cui abbiamo creato le descrizioni abbiamo preso i video li abbiamo compattati nello spazio latente abbiamo estratto le patch adesso abbiamo le patch e le descrizioni ok le diamo ai transformer in maniera molto grossolana e signori miei abbiate pazienza stiamo facendo una descrizione divulgativa per farvi capire un po le cose abbiamo le patch abbiamo le descrizioni le diamo ai transformer che cosa fanno i transformer creano delle corrispondenze tra le caratteristiche astratte ottenute dalle patch ok e le descrizioni quindi vanno a creare delle corrispondenze tra le patch e le descrizioni a questo punto questo apprendimento di corrispondenze si basa sulla capacità dei transformer di gestire proprio quelle sequenze di input che adesso sono le patch e di associarle efficacemente a contesti forniti dalle descrizioni per cui si crea questa questa capacità del modello di associare gli elementi le patch e i token ok token video e le descrizioni e si passa all'ultimo passaggio dell'addestramento ok l'ultimo passaggio dell'addestramento è il denoising che è però una cosa che abbiamo già visto in stable diffusion all'inizio della lezione ho detto che cos'è un modello di diffusione il modello di diffusione a un certo punto toglie il rumore parte con delle patch rumorose e va a togliere il rumore questo avviene per le immagini però si addestra sora a fare la stessa cosa però non sulle immagini ma sulle patch ok che adesso sono i nostri token cioè sono gli elementi sui quali si va a costruire l'output proprio come gpt costruisce l'output testuale su dei pezzi dei blocchi di parole il video viene costruito su dei blocchi che sono contestuali più concettuali spazio temporali relazioni tra elementi che sono però i blocchi del video ok per cui si addestra al denoising quindi questo credo che sia che non è che hanno ripeto non è che hanno proprio specificato tutto bisogna pure andare un po a cercare di capire credo che questa sia la fase dell'addestramento diciamo supervisionato per cui si mette alla prova al modello e si vede come prevede le patch a partire dal rumore cioè gli si danno gli si danno delle descrizioni lui produce delle patch adesso lo vediamo nella fase d'utilizzo produce delle patch rumorose e deve trasformare trasformare queste patch rumorose iniziali in una sequenza dei fotogrammi per cui in un video che sia coerente con la descrizione anche questa fase infatti è guidata dai transformer trasformazione deve prevedere le patch finali deve prevedere la patch finale a partire da quella rumorosa va bene che anche questo viene guidato dai transformer che ora conoscono le correlazioni tra patch e descrizioni ci siamo quindi a questo punto noi abbiamo il modello ce l'abbiamo pronto e lo mettiamo in mano all'utente va bene finisce la fase anche dell'addestramento supervisionato credo di aver capito così l'addestramento del denoising e a questo punto abbiamo un modello pronto perché è in grado di decodificare il prompt dell'utente è in grado di scomporlo in patch rumorose ed è in grado siccome conosce le corrispondenze tra le descrizioni le patch di trasformare le patch iniziali in qualcosa di sensato tenendo conto della richiesta dell'utente nel prompt e quindi lo mettiamo alla prova ed è esattamente quello che facciamo allora durante l'utilizzo durante lui quindi finita la fase di addestramento il modello è pronto per il mercato lo facciamo provare ai beta tester e poi alla fine lo rilasciamo sul mercato ok quindi nella fase di utilizzo l'utente scrive un prompt testuale naturalmente ok se questo è troppo breve questo lo specificano loro oppure è incompleto il captioner credo di aver capito lo amplia e lo invia al modello quindi ampliato quindi se tu scrivi soltanto una persona che cammina beh è un po troppo poco dove cammina sta persona in che cammina veloce cammina lenta come vestita che fa chi incontra ok per cui se tu scrivi un prompt troppo breve o insufficiente per la generazione di un video ci pensa il captioner cioè lo stesso che aveva fatto la descrizione dei video nella fase di addestramento adesso si prende il tuo prompt e lo amplia per fare in modo che sia sufficiente per la generazione di un video di un breve video comunque Sora produce al momento video fino a un minuto pare di aver capito quindi il modello riceve il prompt dell'utente ampliato oppure naturale così come dire dall'utente entrano subito in gioco i transformer che utilizzano la conoscenza acquisita durante l'addestramento e predispongono delle patch rumorose utilizzandole come se fossero dei token a questo punto siete in grado di aver capito che succede no i transformer piazzano la dei dei token cioè piazzano la delle patch rumorose quindi ste patch hanno in realtà il seme al loro interno perché sono state scelte ok sono state scelte sulla base del prompt però vanno ancora plasmate capito come se avessi preso la greta ok e adesso la devi plasmare si prendono le patch iniziali rumorose che assomigliano a quella di televisione quando non prende il canale e e inizia il processo di denoising cioè da lì sempre i transformer se non ho capito male si occupano guidano l'attenzione della macchina in considerazione di quanto richiesto dal dal prompt dell'utente nella fase di denoising ok togliendo tutto il rumore in eccesso fino a che non si cominciano a riconoscere delle parti in relazione fino a che queste parti poi non vengono colorate gli viene data una texture e pian piano il video prende forma fino a diventare la versione definitiva le patch iniziali prive del rumore compongono il video finale che viene erogato in output e niente signori questo è quanto io ho fatto del mio meglio per spiegare dei concetti piuttosto complessi il video non poteva essere più breve di così spero però che vi sia stato utile perché magari non tutti avevano chiari questi concetti quindi mi auguro con tutto il cuore di esservi stato utile mi raccomando fatemi sapere nei commenti non ricopritemi di insulti scherzo ripeto sono molto orgoglioso della mia community e vi ringrazio sempre per esserci e per partecipare fatemi sapere nei commenti e spero di esservi stato utile e basta ci vediamo al prossimo video mi raccomando venitemi a trovare su menteemergenti.com e su ciao